Parliamo con l'Avvocato Gori di un argomento molto interessante, la rottamazione delle cartelle. A chi spetta? Sì, quarta rottamazione nel giro di pochi anni, spetta a chi ha subito delle imposizioni fiscali che sono andati a ruolo tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno del 2015. Qual è la procedura esatta da eseguire? Bisogna farla assolutamente in via telematica e deve essere rispettato il termine perentorio del 30 di aprile. Senta, ci sono anche novità per chi ha piccoli debiti con il fisso, pregressi? Sì, perché chi ha cartelle fino a 1000 euro notificate fino al 30 giugno del 2015, gli verranno automaticamente annullate al 31 di marzo. 1000 euro si intendono sia le imposte tasse che le sanzioni e gli interessi. Dove ci si può rivolgere? Io consiglio naturalmente tutti i patronati che possono assistere i cittadini e naturalmente professionisti in genere, commercialisti in particolare, che possono assistere. Soprattutto perché la domanda in via telematica talvolta non è sempre semplice. E chi ha già iniziato a pagare prima di questa rottamazione che fa? Vale? Su questo bisogna un po' approfondire, però riteniamo che chi ha fatto già la rottamazione non ne possa beneficiare per raddoppiarla.